1. Non fate casa i capelli 2. Guardando Juventus-Lecce, ma soprattutto guardando il Lecce mi è venuta in mente la quarantena, mi è venuto in mente il Lecce de Gabbo me ne diventa un mito, quindi va a buttola se arrivano 10.000 mi piace su questo video entro 24 ore torna un nuovo episodio di Diventa un mito e potrei anche cambiare squadra e ve la buttola un'altra volta detto questo, ragazzi, Juventus-Lecce è stata una partita molto particolare perché è partita bene la Juventus perché il Lecce piano piano ha cominciato a capire che qualcosina poteva usarla tant'è, diciamo, hanno messo in difficoltà la Juventus per buona parte del primo tempo che cosa succede però? la chiave di volta di questa partita, nel frattempo butto un occhio perché insieme a mai segnano un altro gol la chiave di volta di questa partita ovviamente è stata l'espulsione di Lucioni Lucioni che fa una cazzata, praticamente stoppa male una palla Bentancur, se non mi ricordo male, gliela ruba e non può fare altro ovviamente che stendere il calciatore fallo da ultimo uomo cartellino rosso e là praticamente sullo 0-0 si è chiusa la partita nel senso che è andata in discesa per la Juventus il primo tempo però si chiude sul punteggio di 1-0 Ronaldo che se magna un gol di testa abbastanza importante perché là non ci si aspetta da lui un errore del genere e poi anche un mezzo errore di Bernardeschi sempre verso la fine del primo tempo praticamente non riesce a buttare la palla in rete diciamo che secondo me il colpo di testa di Ronaldo era più difficile era più difficile non buttarlo in rete vabbè comunque sia secondo tempo che cosa succede? succede che ragazzi la risolvono i singoli la risolve soprattutto Paolo Di Bala che si inventa un gol dei suoi come diceva non mi ricordo se Marcheggiani o chi diceva questo ogni volta che veda la porta che ha solo l'incrocio di pali una cosa di quelle pazzesce bel gol come sempre Paolo Di Bala la sblocca e sta tornando sicuramente è tornato su livelli molto molto importanti Di Bala tra alti e bassi ha avuto un periodo abbastanza no alla Juventus tant'è che si parlava di eventuali ipotetica cessione e via dicendo ragazzi miei se continua così Paolo Di Bala è una delle certezze più grosse della Juventus del futuro e poi Cristiano Ronaldo su calcio di rigore non mi ricordo chi forse Rossettini lo stende sto cercando di andare a memoria allora vediamo un po' se lo ritrovo me sa che era proprio lui me sa che era proprio lui sto cercando di andare a memoria ma sinceramente non me lo ricordo lo stende calcio di rigore Cristiano Ronaldo la trasforma senza troppi problemi e la partita è bella che è chiusa situazione di classifica in maniera alquanto rapida Juventus che si porta a 69 punti ragazzi che bello il numero mamma mia 69 punti scusate se sono un po' stupidino Lazio quindi che per chi carriera con Lecce Gabbo mette 69 sempre per tornare a quel discorso Lazio 62 punti quindi comunque Juventus che intanto si prende altri 3 punti e gli dice alla Lazio si te la devi andare a giocare in casa ma te la devi andare a giocare a casa Fiorentina Inter che rimane a guardare a 58 c'ha una trasferta insidiosa contro il Parma dice ma che è cominciato a registrare all'ottante e che tanto ecco gol in live e il pipì da Iguain che ci stava da dire l'hanno chiuso ah per chi mi segue su Telegram ha segnato Iguain tra l'altro con solo Iguain che rientra proprio da cattiveria proprio poco fa aveva tirato una pezza di quelle incredibili e la palla era uscita di poco che sta a fare Lucatoni? maccaroni peperoni pizzelloni Lucatoni numero 1 vabbè comunque sia dopo questo stacchetto che vale praticamente il video numero 1 hashtag in in descrizione nei commenti me lo voglio ricustare in diretta e dopo di che ragazzi probabilmente chiuderò il video sperando che finì mamma mia ragazzi doppio assist di Cristiano Ronaldo una cosa di quelle esagerate tacco Iguain sinistraccio palla sotto la traversa Gabriel non può nulla ma mi permetto di dire che Gabriel in un paio di occasioni colpo di testa di Ronaldo è riuscito a salvare in una maniera di quelle esagerate anche in un'altra paio di occasioni insomma poteva finire con un divario sicuramente più ampio se finisce così ho beccato il risultato esatto speriamo bene io adesso chiudo il video vediamo quel che accadrà voi già lo sapete saranno joyous ma forse è meglio che non lo dico il vostro parere qui sotto nei commenti ragazzi miei ci vediamo alla prossima tanto non finirà mai così sono sicuro che non finirà mai 3-0 come il minimo succede qualcosa e a me non mi fanno vincere la scherina ma soprattutto a vincere pure voi seguitemi su Telegram ve l'ho consigliato oggi pomeriggio ma non lo rubiamo grazie a tutti grazie a tutti